Individuati, perquisiti e denunciati, i due giovani responsabili degli spari di Capodanno a Cantù. Voglio ringraziare l'arma dei carabinieri e la polizia locale cittadina perché in meno di 24 ore hanno individuato i responsabili di fatti così gravi. Ora attendiamo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e in settimana con il prefetto questore forze di polizia faremo il punto della sicurezza cittadina e in provincia di Como. La sicurezza rimane una priorità e non può essere garantita nessuna impunità per fatti così gravi.